Dopo un anno di proteste dalla regione Campania arrivano i primi fondi per la messa in sicurezza della Stata E18 che collega il cilento interno con il resto del territorio salernitano. Il settore difesa suolo ha stanziato 25 mila euro per rimuovere la frana che minaccia la via nazionale in località Scrella, nel tratto compreso tra Montano Antiglia e Laurito. I lavori di somma urgenza inizieranno a giorni e consentiranno di ripristinare l'area sovrastante la statale dalla quale circa un anno fa scivolò giù una grossa quantità di terre e vegetazione rendendo necessaria la chiusura al traffico dell'importante arteria stradale. Fu riaperta dopo la rimozione dalla carreggiata del materiale che ne impediva la circolazione. Con i 25 milioni stanziati sarà eseguito un intervento di raccolta del materiale franato e che attualmente rischia di occludere la sezione idraulica del ponte di proprietà dell'ANAS. Contestualmente sarà eseguito un intervento di sistemazione idraulico forestale con ingegneria naturalistica a Gabbioni utilizzando lo stesso materiale franato. Sarebbe una buona occasione, afferma il sindaco di Laurito Vincenzo Speranza, per fare l'intervento in amministrazione diretta utilizzando gli idraulici forestali della comunità montana. In questo modo, spiega, si andranno ad incrementare le giornate lavorative degli operai e faremo comprendere alla regione Campania l'importanza degli enti montani e non solo per le aree interne. La notizia dell'avvio dei lavori di sommorgenza sulla statale 18 ha fatto tirare un sospiro di sollievo alle comunità locali che da tempo temono l'isolamento. Per loro si tratta dell'unica strada di collegamento. Un'altra frana li avrebbe reso impossibile qualsiasi spostamento.